One, two, three, boom! La rivoluzione del divertimento è iniziata. Per la prima volta le serie meno serie della TV in un unico canale. Il 128. Leggendario. Ognuna di voi ricorda quello che deve fare? Hasta la risata, sempre! Questa è una bilancia. Magari ne avessi avuta una quando avevo la tua età. Sempre il teatrino devi fare. Dal primo novembre, fatti conquistare da Fox Comedy, la casa del divertimento. Entra in Sky, chiamaci in 02-7070. Alla prossima.